Ciao a tutti ragazzi, sono Shadot e faccio questo video molto veloce per informarvi che finalmente dopo 15 anni che c'ho una connessione di merda mi è arrivata anche a me una connessione decente e che connessione? Mi è arrivata la fibra addirittura e adesso vi faccio vedere la mia vecchia connessione che potete vedere qua come potete vedere io sono stato con questa merda per ben 15 anni e non ho avuto un upgrade da nessuna parte perché vivo in un paese in provincia e quindi nessuno si incula questo paese ma è arrivata una nuova sindaca l'anno scorso e prima cosa che ha fatto appena arrivata, boom, ha messo la fibra e io la ringrazio un casino di fare una cazzo di stato a sta sindaca comunque, tanto per farvi vedere un po' la differenza che si nota parecchio questa qua è la mia nuova connessione come potete vedere, cioè, non è manco paragonabile a quella vecchia è come passare da un carrello della spesa a una Ferrari cioè, quindi, vabbè e detto questo, visto che adesso ho una connessione decente riprenderò a streammare su Twitch e il canale ve lo metto in descrizione, comunque è shadowed official e finalmente farò uno stream con qualità decente e oltre a quello potrò anche mettere video su YouTube con qualità decente perché finora ho usato un 720 con 30p, cioè, un po' pixeloso quindi adesso potrò finalmente metterli in 1080 e dovrebbe metterci veramente poco a parli infatti farò la prova con questo che non lo renderizzo neanche vediamo, tanto per regolarmi con i tempi quanto ci mette comunque penso un 10 minuti massimo e come potete vedere a sinistra c'è ci sono le notifiche per i follower perché sto usando l'overlay dello stream infatti se vi devo questa questo è il background dello streaming che sto usando al momento e quindi ragazzi vi prego di mettere il follow per avere la notifica di quando vado online su Twitch e se vi va di passare dal mio canale su Twitch quando, boh, non avete niente da fare volete vedere un po' di gameplay principalmente sullo stream giocherò League of Legends e qualche volta Counter Strike, penso ma principalmente League of Legends e per il momento è tutto ragazzi grazie della visione e ci vediamo nello streaming se deciderete di passare